sono fuori dal tunnel di sto cazzo bella a tutti i ragazzi benvenuti in questo nuovo video questo video riguarda delle clip che ho girato nel backstage dei webshow world ve le lascio come sempre vi invito a lasciare un mi piace e iscrivervi al canale e niente buona visione bella ragazzi benvenuti sul canale in diretta dai webshow world dove è pieno di figa infatti facciamo una roba breve perché bisogna andare a scopare che è la cosa più importante iscrivetevi al canale del mio socio nuovo gianmarco galletti parola di franky comando sarà sarà il prossimo ad essere reclutato per essere messo in forma per l'estate prossima quindi vedremo se riuscirò anche in questa impresa poi vedrete l'abbinata nei due canali mi raccomando di qualcosa qualcosa quando sarò magro buona nel canale suo bella ciao grazie a tutti 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 Buongiorno a Enzo Ciolini Ciolinas Che è qui con noi Sto diventando il panico In console No 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 Non lo sa nessuno Ma bene Io direi che è ora di andare a letto Perlomeno voi Sceppo Sceppo dove sei? Ti amo Mauri Non vedo come non potresti Ti stai schiacciando il tiro? No 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 Grazie a tutti Grazie 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 Grazie